Batman e Tartaruga Ninja, secondo crossover della IDW e della DC Comics, edito ancora dalla R.V.Lion Wabalaba dardabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica Tartaruga Ninja, ma anche nella rubrica DC Comics E sì, perché in questo mese, tutto dedicato a Batman, grazie anche all'uscita di The Batman, di cui vedete il poster qui accanto Ho voluto parlare, nella mia rubrica del sabato, non tanto della serie regolare delle Tartaruga Ninja, ma dei crossover di Batman Quale mese migliore? Settimana scorsa abbiamo già parlato del primo crossover, vi ho dato anche una infarinatura editoriale Qua invece vorrei lanciarmi nel vivo, nella storia, per parlare subito con voi di tutto quello che ho letto Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video Anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno una Batmobile E di commentare qui sotto con quello che viene apparso di questo secondo crossover, ovviamente se lo avete letto E se non lo avete letto, se la mia spiegazione vi ha incuriosito Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch Trovate tutti i link qua sotto in descrizione, insieme a un sacco di link Amazon Se nel primo crossover tra Batman e le tartarughe ninja Vedevamo le tartarughe ninja e il clan del piede con tanto di Shredder e le tartarughe ninja con tanto di Splinter Teletrasportati nel mondo, nell'universo che comprende Gotham City Quindi nell'universo della DC Comics Come ogni secondo capitolo che si rispetti, nel secondo crossover vediamo il contrario Ovvero vediamo i protagonisti, gli antagonisti della terra di Batman Teletrasportati nella New York dove esistono le tartarughe ninja Devo dire che l'espediente con cui parte la storia questa volta mi è piaciuto un pochino meno rispetto al primo Perché sembra un po' forzato, ma poi vi vado a spiegare perché Ma allo stesso tempo viene narrato tutto in modo molto più lineare rispetto al primo Dove erano già catapultati in questo mondo La storia partiva già nel vivo Mentre qua ingrana con un po' più di calma E questo ci permette di entrare meglio nella storia, secondo me E la storia di per sé, forse proprio perché nel primo, che era un esperimento anche editoriale Hanno buttato tutte le cartucce possibili, inimmaginabile Ed è uscito anche un blockbusterone molto, passatemi il termine, molto trash Nel senso che c'era davvero di tutto C'erano i villain di Gotham City trasformati in mutanti animali Era una cosa, secondo me, anche fin troppo sopra le righe anche per quel crossover Qua invece sono riusciti un pochino a dosare il tutto Forse perché appunto hanno visto il successo del primo fumetto E quindi hanno detto, ok, possiamo andare con calma In questo fumetto possiamo fare una storia con delle perfette citazioni Ma senza esagerare E poi semmai faremo altro in un'altra storia Tant'è che poi è uscito anche il terzo crossover Questo secondo crossover, che in America era una miniserie di sei numeri È incentrato particolarmente su Donatello Sulla personalità di Donatello, sulle sue pauri interiori Sul suo sentirsi inadeguato Sul fatto che la sua intelligenza nel gruppo Lo faccia sembrare quasi come quello, in un certo senso, più debole Solo perché ricorre alla sua intelligenza e non alla sua mera forza per combattere E devo dire che un po' mi spiace Perché Donatello è la mia seconda tartaruga ninja preferita E mi spiace che venga svilito così in questo modo Per far fruire la narrazione Ma devo dire che comunque nell'opera alla fine ha un bel riscatto Stiamo parlando comunque di personaggi adolescenti Quindi ci sta che Donatello, pur non essendo più debole degli altri fratelli Si senta più debole degli altri fratelli Cioè è diverso tra esserlo e sentirsi Durante l'adolescenza spesso ci si sente inferiori a quello che realmente possiamo dare Quindi per carità da questo punto di vista Mi è piaciuto molto come hanno anche trattato Il tema dell'alienazione, della solitudine Di quello che può provare un nerd Perché in questo caso Donatello è il nerd del gruppo Rispetto anche ai propri fratelli, ai propri compagni di Ventura Che invece sono un po' più, passatemi il termine, un po' più normi Un po' strano l'espediente narrativo di partenza In cui è proprio una delle guardie del piede Una delle guardie d'elite del piede comunque Ma un personaggio in ogni caso abbastanza anonimo Che non ha un vero e proprio rapporto con Donatello A utilizzare nel combattimento anche il depistamento psicologico Cioè cerca proprio di svilirlo mentre combatte Prendendo in giro il fatto che appunto utilizzi la tecnologia E non l'arte ninja pura e semplice come invece fanno loro E viene, tra l'altro, viene anche battuto Non da una sola guardie d'elite ma da tutte e quattro le guardie d'elite Viene battuto e viene salvato in un certo senso dai propri fratelli Che gli arrivano in soccorso Ma perché ovviamente sono in maggioranza Erano in tre contro quattro guardie d'elite È una sfida un po' più pari rispetto a uno contro quattro Però ecco questo svilisce molto Donatello Ecco l'incipit iniziale è che lui pensa che in tutto il suo mondo L'unica persona che riesca a bilanciare sia la sua genialità La sua tecnologia, i suoi gadget Sia la sua forza Sia il Batman La persona che ha incontrato in un altro universo Per quello dico è un po' strana come cosa Cioè vai ad aprire un varco dimensionale Perché ti senti solo Mi sembra molto molto forzato anche per Donatello Perché comunque voglio dire La sua stessa intelligenza da scienziato Lo avrebbe distolto dal fare una cosa del genere Ma sospensione dell'incredulità Parliamo di un mondo dove ci sono delle tartarughe ninja mutanti Quindi va bene così Chiudiamo un occhio e andiamo avanti Questo tentativo di Donatello Di raggiungere il portale Scusate, di raggiungere la dimensione di Batman Attraverso il portale che non è più quello di Krang Ma è quello che hanno cercato di riprodurre con Harold Laila Quindi è il portale dei laboratori Laila Mentre cerca di andare Donatello a Gotham City Sapendo comunque il rischio che c'è Per una tartaruga ninja di andare a Gotham City Dal momento che nel primo numero Dopo un paio di settimane che stavano lì Rischiavano davvero di tornare dalle tartarughine Vabbè Comunque col tentativo di Donatello di andare a Gotham City Per sbaglio Dato che in quel momento viene attaccato proprio ancora dal clan del piede Perché a New York c'è una guerriglia totale Dopo che Shredder è stato arrestato e imprigionato nel primo crossover Viene aggredito dal guardia del piede E il macchinario chiaramente sbaglia leggermente la frequenza Invece di teletrasportare Donatello semplicemente di là Scambia Donatello con la persona che in quel momento era più prossima Proprio a livello di distanza rispetto a Batman Che purtroppo è Bane Bane è il grosso nemico di questo secondo crossover E devo dire Io non sono un grandissimo fan di Bane onestamente Ma devo dire che in questo fumetto Questo Bane è molto più potente Intendo dire a livello narrativo Ma molto più forte Come scrittura di quello che abbiamo visto nel primo crossover Ovvero del Ra's al Ghul del primo crossover associato con Shredder Ecco, qui Bane da solo riesce a reggere il suo essere villain in tutta questa storia L'ho sentito davvero potentissimo E mi è piaciuto un casino molto più di Shredder e Ra's al Ghul nel primo crossover Per quanto la presenza di Shredder nel primo è stata una goduria Perché l'abbiamo visto combattere con Batman L'abbiamo visto agli arsi con la setta agli assassini Quindi ci sta Però il fatto che qua sia un solo nemico che riesca a creare un esercito Riesca fondamentalmente a diventare il nuovo Kingpin di New York Di una New York dove tutte le bande sono in lotta tra loro Dopo che c'è stato questo vuoto di potere creato dalla cattura di Shredder Ecco, Bane arriva e riempie questo vuoto e lo eleva a potenza E fa vedere proprio quanto può essere marcia una città Che ha bisogno di un leader che basa tutto sulla paura Come se non bastasse c'è anche il problema opposto che c'era nell'altro numero Mentre nel... dal momento che nell'altro numero che era ambientato a Gotham City Non esisteva il mutagino ed è stato portato in un'altra dimensione In questa dimensione delle tartaruga ninja non esiste il Venom Non esiste la droga steroidea che dà la potenza e la dipendenza a Bane E quindi Bane cosa fa? Assume, assume, rapisce Baxter Stockman Fa rapire da Bebop e Rocksteady Baxter Stockman Sì, in questo numero sono presenti anche Bebop e Rocksteady Perché vi ricordo che sono in continuity Quindi se nel primo numero non c'erano ancora In questo numero ci sono Purtroppo anche questo numero pecca del fatto che non ci dicono dove si collocano in continuity Dovremmo andare su Wikipedia, andare a cercare Magari ve lo metto qua sotto in descrizione Bebop e Rocksteady ovviamente sono dei finti duri Sono dei vigliacchi e quindi quando scoprono la potenza di Bane Dell'esercito che è riuscito a racimolare Si inchinano e diventano i suoi luogotenenti Bebop e Rocksteady rapiscono Baxter Stockman Che inizia a lavorare nella produzione del Venom di questa terra Un'altra cosa molto figa di questo crossover Che rispetto al primo dove c'era principalmente Batman Che interagiva con le tartarughe ninja E c'era una piccola comparsata del Robin di Damian Wayne Qua vediamo un Batman Accompagnato da una massiccia presenza di Damian Wayne Che mostra tutta la sua arroganza Tutto il suo disprezzo per queste creature un po' mostruose Che sono le tartarughe ninja E soprattutto c'è anche una Batgirl Una Batgirl se non sbaglio Sì anche in base a come sono disegnati Dovremmo essere nell'era Rebirth Rinascita della DC Comics E per quanto a me faccia schifo il costume di Batgirl In Rinascita Perché fondamentalmente non è un costume Ma è un giubbino chiuso col logo E delle Timberland eccetera eccetera In questo contesto dove non c'è il viola Ma fondamentalmente è tutto su una tonalità di azzurro e giallo Questo costume è uno dei più belli che io abbia mai visto Fa invidia anche al costume di New 52 Che a me piaceva un sacco per Batgirl Che poi hanno tolto Una trama molto più semplice Molto più lineare Che ci permette di goderci di più L'interazione tra i personaggi Il piano di Bane è molto semplice Vuole che Baxter Stockman produca in quantità il Venom Per tutta la città di New York A cominciare dalla sua nuova esercito Dal clan del piede Vuole che tutti i suoi scagnozzi Possiedano il Venom in corpo E con tutto questo esercito Vuole poi prima soggiogare New York E poi tornare con il portale a Gotham E appropriarsi anche di quella città Quindi fondamentalmente più o meno il piano di Shredder Ma con la forza di volontà di Bane E della droga che gli annebbia la mente Che lo fa sentire invincibile Ovviamente i nostri eroi tentano un primo agguato In quel del covo di Bane Ma restano gravemente feriti Resta prima gravemente ferito Raffaello Poi Splinter cerca di salvare Raffaello E viene ridotto in coma da Bane Da Bane in preda al Venom In tutto questo i nostri eroi Tornano alla base delle tartarughe ninja Leccandosi le ferite Con uno Splinter in fin di vita Raffaello comunque si era preso giusto una botta Ma parliamo di una tartaruga Con un guscio contro un ratto Che invece è stato sbattuto Come Loki dall'incredibile Hulk in Avengers E quindi la situazione è davvero critica Così critica che Donatello Si addossa a tutte le colpe di tutta la causa Di quello che è successo E nella sua disperazione più totale Donatello si inietta il Venom Si inietta la droga di Bane Quindi c'è un Donatello enorme Che ricorda molto la serie del 2003 In cui Donatello subisce una seconda mutazione Questa è una citazione sicuramente a quella serie Ma non mancano anche altre citazioni Che poi andremo a vedere E allo stesso tempo invece Robin Che è stato per tutto il tempo Una spina nel fianco di Raffaello Si sono insultati dall'inizio di questo crossover Fino ad ora Sono anche questi nemici un po' alleati E quindi Robin propone a Raffaello Di portare Splinter attraverso il portale A Gotham E metterlo nella Fossa di Lazzaro Nella Fossa di Lazzaro Che avevano scoperto all'inizio di questa storia Una Fossa di Lazzaro nascosta nei sotterranei di Gotham Il piano riesce Quindi Splinter riemerge dalla Fossa di Lazzaro Mi dispiace che hanno fatto vedere Solo in un piccolo flashback La pazzia temporanea di Splinter Nella Fossa di Lazzaro Però ci sta Anzi l'hanno anche usata un po' come release comica Hanno fatto credere che Splinter Non abbia subito gli effetti collaterali Della Fossa di Lazzaro Perché lui usa la meditazione E poi mostrano un flashback Dove ha dato di matto e ha picchiato tutti Però vabbè ci sta anche quello Nel senso non l'hanno usato come elemento preoccupante Da aggiungere alla storia Ma lo hanno usato come linea comica Va benissimo Nella collutazione finale Baxter Stockman viene cosparso di mutageno Proprio mentre una mosca gli vola accanto Diventando un mutante Con l'aspetto di una mosca Questo per citare il Baxter Stockman Della serie dell'87 Che poi è stato citato anche nella serie del 2012 Solo nella IDW tuttora non è stato mutato Tranne in questo crossover Tra l'altro essendo in continuity Non ricordo Come poi hanno cancellato questa cosa Dovrei proprio andare a vedere da qualche parte Se effettivamente hanno risolto questo problema Oppure hanno chiuso un occhio E non è poi così in continuity ecco Nell'attacco finale Alla nuova base di Bane Che è niente poco di meno che la statua della libertà Quindi Liberty Island Batman e la squadra Vanno preparati con un antidoto al Venom Perché esattamente come il mutageno nel primo crossover Dopo un po' diventava instabile Anche questo Venom di questa terra è instabile Se seguiamo le regole della fisica della terra delle tartaruga ninja E così Donatello Dopo che è stato Diciamo calmato da Leonardo E Batman Perché comunque il siero Vain Scusate il siero Venom Ti rende Ti fa sentire onnipotente Quindi dopo una colluttazione Tra Batman, Leonardo e Donatello Leonardo riesce a fare Ragionare il fratello Che torna in sé Torna lucido abbastanza Da creare un antidoto Che prima prova su di sé Quindi torna Donatello Alle sue dimensioni normali E poi Produce in massa La tossina L'antitossina E si conduce Insieme alla squadra Alla statua della libertà Dove spargerà questa tossina Per depotenziare Tutto l'esercito di Bane Che comunque è un esercito di soldati ninja Ragazzi vi devo far vedere queste tavole Perché il primo è spettacolare I disegnatori sono gli stessi Ma nel secondo davvero Si sono superati Guardate che figata Queste tavole Sono superlative Sono stupende Anche solo per i disegni Vale la pena Acquistare questo capolavoro Volevo solo mostrarvi Anche come diffondono La tossina In Alla statua della libertà È una grandissima citazione Alla serie animata Ecco in questo forse è leggermente Fuori continuity perché le tartarughe ninja Della IDW Non hanno Proprio tutti questi mezzi Però mostrano Il dirigibile Con l'aliante attaccato Delle tartarughe ninja All'interno Poi mentre le tartarughe ninja Tranne Donatello Sono all'interno di Qualcosa Poi vedremo cosa Ci mostrano come Donatello stacca il dirigibile Dall'aliante Esattamente come nei cartoni animati E nei giocattoli Delle tartarughe ninja C'è questa fantastica scena In cui Donatello A bordo di una sorta di skateboard Costruito al volo Scappa dall'esplosione Del dirigibile Questa ricorda molto Una scena di Batman e Robin In cui Chris O'Donnell E George Clooney Scappano dalla bomba Lanciata da Lanciata per Per non far cadere sulla città Il razzo di Mr. Freeze E tutte le altre tartarughe Invece erano pronte Per schizzare A Liberty Island Con il furgone Delle tartarughe ninja Quello proprio classico Della serie dell'87 Che non credo sia In continuity Con la serie di W Ma correggetemi se sbaglio E c'è questa fantastica scena Che richiama tantissimo La sigla Dove si apre il portellone Del tettuccio E April Guarda Lo specchietto retrovisore Per vedere I suoi amici Che saltano dal tettuccio Vediamo i ragazzi Che saltano E Cambio pagina Scusate E c'è proprio Una splash page Verticale In cui loro Schizzano fuori dal furgone Come nella sigla Per affrontare I loro nemici Quindi tanta 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 roba A livello visivo A livello citazionistico E a livello di narrazione Mi piace anche Come abbiano gestito Le differenze caratteriali Tra Shredder Che è un ninja Quindi agisce nell'ombra E Bane Che invece si mostra Al pubblico In una scena finale È in In televisione È su tutte le reti Di New York Vediamo anche Che viene trasmesso Allo stadio Citando La famosissima scena Del Cavaliere Oscuro Il ritorno In cui Bane È all'interno Dello stadio E fa tutto il suo discorso Quindi ecco La pomposità di Bane Contrapposta Alla Alla filosofia ninja Di Shredder Mi è piaciuto un sacco Tant'è Che Batman Per Spodestare Bane Dal suo nuovo trono Decide di Fare un accordo Con Shredder Ovvero di farlo Uscire temporaneamente Di prigione Per Far Ricredere Il piede Intero Che si era diviso In fazioni Alcuni con Karai Alcuni con Bibop Rocksteady Eccetera Per farli Riunire tutti Sotto l'ala Di Shredder E farli Seguire tutti Quello che dice Shredder Shredder Dice al clan Del piede Di tornare Sotto il suo comando Lui dice Di seguire Karai Karai è La persona scelta Da Shredder Per guidarli Mentre lui Mentre lui È in prigione Quindi anche il clan Del piede Si rivolta Contro Bane Ovviamente Bane viene sconfitto Anche grazie All'anti All'anti Venom Creato Da Donatello Viene ovviamente Portato Di nuovo Nella dimensione Di Gotham Per quanto riguarda Invece Shredder Su accordo Con Batman Torna In prigione Questo perché Shredder ha accettato Di aiutare Batman A patto Di avere Una rivincita Non so Non fanno vedere Lo scontro Come va a finire Non si sa se Shredder torna in prigione Perché Batman Lo ha battuto O se Era Negli accordi Fin dall'inizio Che tornasse in prigione E Shredder Aveva semplicemente Chiesto una sfida Con Batman Questo non ci ha dato Saperlo Ma è molto In linea Con Un Diciamo Il codice D'onore Di un ninja Deviato Come Shredder Io ragazzi Vi ringrazio Come sempre Per avermi seguito Fino a qui Se ho dimenticato Qualche citazione Scrivetemela qua sotto Nei commenti Se ne volete Di più Ovviamente Adesso Ci occuperemo Anche del terzo Crossover Ho visto il film Delle tartarughe ninja Con Batman Il film animato Quindi potremmo fare Una mini recensione Anche di quello Per l'ultimo sabato Del mese E parleremo Anche di quello O se volete Si può fare Un watch party Su una live Su Twitch Fatemelo sapere Nei commenti Io come sempre Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video